I veri amici si prendono sempre cura di te, nelle notti insonni e nei momenti di gioia. E come i veri amici, anche Enterogermina è al tuo fianco quando serve, per prendersi cura del tuo intestino. Enterogermina è l'unico che, grazie alla sua formula, combina quattro ceppi diversi di Bacillus clausi che arrivano vivi nell'intestino, per prevenire e curare l'alterazione della flora batterica. Puoi prenderti cura del tuo intestino e prenderti cura di te. Enterogermina . . .